...collegamento ad alcuni eventi molto rari di trombosi celebrale, quindi un possibile collegamento tra il vaccino AstraZeneca e alcuni casi definiti molto rari. Comunque i benefici superano i rischi, i benefici di AstraZeneca continuano a superare i rischi per EMA e soprattutto pare, poi vedremo nel corso della conferenza stampa, che non vengano forniti dei limiti cogenti di età nella somministrazione del vaccino, anche se viene specificato che questi rari casi hanno riguardato delle donne sotto i 60 anni entro le due settimane dalla somministrazione della dose del vaccino AstraZeneca. Questo è quello che si sa e non sussistono rischi specifici legati all'età da quanto risulta il monitoraggio di EMA. Però perdonami, si parla di trombosi cerebrale, rarissimi casi? Raro effetto collaterale. Come raro effetto collaterale? Si parla di donne sotto i 60 anni? Dopo donne sotto i 60 anni, che hanno avuto somministrata la prima dose entro due settimane, mentre invece questo tipo di effetti collaterali nelle donne sotto i 60 anni che hanno ricevuto la seconda dose, lo vedete, è molto limitato. Quindi la seconda dose, se avete fatto la prima e non vi è successo niente, la potete fare, fatela. Sulle altre cose, EMA mi sembra, adesso qua ci vuole il traduttore, vediamo se ci può aiutare Pomicino. Che ci stanno dicendo? Perché io ho un terribile dubbio, che Pomicino mi deve togliere subito. Io ho il...